Oggi abbiamo affrontato il tema del reporting sostenibile. Io mi sono occupata della certificazione della parità di genere sui luoghi di lavoro come da Uni PDR 125 del 2022. Sono Sara Merlo, lavoro presso Autosped Gruppo Gavio, la società capogruppo dell'omonimo gruppo industriale, insieme ad un'altra società dell'omonimo gruppo G&A, ha ottenuto la certificazione per la parità di genere a novembre di quest'anno. Per il gruppo l'ottenimento di questa certificazione è stato un obiettivo importante in tema di sostenibilità, in particolar modo sostenibilità umana.